Allora, diciamo, il mio sogno dal grande sarebbe diventare un calciatore, anche se è un po' difficile, è un studiare parecchio e... Sarà un po' difficile, ma ci troverà. Il calciatore? Quale c'è? Il gioco? No, 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 per quale tipico? Juve! Che schifo! Oh, per questo è ora! Eh? Io? No, io sono un po' sbagliato. E' un po' simpatizzante per me, ma il calcio lo guardo per fare. Eh, addio! Addio! Siamo a terra con lui, eh? Abbiamo un cinturco venanista! Viene a questa pera! Campione di judo! Di judo? Da che andiamo a far campione di judo? Lui era sta facendo... Ma le spizzano osse, lui? No, la faccia il po' bene! Te, ma chiamano le sorelle! Sì! Anche te? No, io... Marzia! No, non abbiamo sentito Marzia! Avvocato! Baaah! Come... Nel cane vorrei fare le pomadine pescatore come hobby di centana? Io invece voglio studiare giudici prudenza! Io invece vorrei stare solo con Dario! Io invece voglio fare il paleontologo e come hobby anche io di me. Io ho programmatore robotico o ingegnere meccanico? Io archeologo e come hobby fumettista! Io oppure non tolgo archeologo! Stoico! 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 Io la mettero in aria! Io la faccio in aria! Io la faccio in aria! Boh! Ma che bella cosa! E la faccio in aria! E il cacciatore! Anche te! E velocemente! Ti amassi! Allora! C'è no! Non c'è se c'è tu vuoi niente! O il sindaco! O il cacciatore! Anche io! Quello dopo fa! Unità di mestiere! O il sindaco e il cacciatore! Faccio buonanotte! O il tecnologico! Signor Mirko, te nevi! Lei è la grande che lavoro volete! Questa è una bella domanda! Questa è una bella domanda! Ma! Io ho studiato per fare l'avvocato! E ora sto aspettando per fare l'esame per diventare avvocato! Penso, quando ho detto di fare il sindaco, di fare l'avvocato! Ma sei variato in cazzi politiche? No! Sono variato in giurisprudenza! Vuol dire che puoi diventare o avvocato o giudice! Per esempio io in casa faccio il giudice! Quando mamma vuole i bicchiali, no mamma! Contrerebbe i bicchiali di Norelli! E Simona? E Simona? E anch'io studio giurisprudenza! Quindi da grande vuole fare l'avvocato! Sì! Quindi il corso di giudice te lo lasciamo! Sì te lo lasciamo! Sì sì! Se sono tutti avvocati... Mi buttò fuori da qui! E da niente!